Hello and welcome to the MedSchools International. Io sono Alexander e oggi vi voglio parlare del nostro test di livello. Sulla nostra piattaforma di e-learning infatti trovate un test di livello professionale gratuito aperto a tutte le persone che devono fare dei corsi aziendali con noi oppure che vogliono partecipare attivamente ai corsi presenti sulla nostra piattaforma di e-learning. Vi spiego come funziona questo test e in che cosa consiste. Innanzitutto si tratta di un test a tempo, avete 40 minuti per completarlo. È un test verticale, approfondito, professionale, che misura le capacità di gestione della lingua passiva da livello o base a livello avanzato. Il test consiste in 100 domande, come dicevo, e i risultati che vi verranno dati sono, diciamo, compresi tra appunto il livello base, che è A1, e il livello avanzato. Ci sono 6 macro aree di riferimento con le quali verrete valutate, che sono rispettivamente l'A1, che è il livello beginner, quindi base, la 2, che è il livello elementare, il livello B1, che è il livello intermedio basso, poi abbiamo il livello B2, intermedio alto, che corrisponde a quello che la comunità europea considera la soglia di indipendenza, ovvero quella soglia per la quale una persona risulta essere indipendente nell'utilizzo della lingua. Poi abbiamo i livelli avanzati, rispettivamente il C1 e il C2. Come vi dicevo, questo è un test che misura la vostra capacità di gestire la lingua dal punto di vista passivo, se vogliamo, ovvero come gestite la comprensione delle strutture grammaticali del lessico e anche un pochino di comprensione per il listening. Si distingue un test a livello passivo da un attivo, nel senso che per testare la vostra capacità attiva è necessario farlo con un docente che misura la vostra capacità di interagire a livello di conversazione con qualcuno. Noi facciamo anche questo tipo di test, ovviamente sono test che servono per attivare percorsi di conversazione di gruppo o individuali, ovviamente. vi lascio con un'indicazione per la compilazione del test, ovvero cercate a ritagliarvi del tempo appunto 40 minuti per poterlo fare in totale tranquillità perché il test non si può ripetere e avendo cura anche di non rispondere a caso alle domande di cui non conoscete la risposta per non falsare il risultato del test. Per qualsiasi dubbio circa il test a livello oppure i nostri corsi, potete mandarci un whatsapp al numero 347-4258-840 oppure una mail all'eventschool.com E' tutto, divertitevi con il test, happy English da Alexander, bye bye!